Questo ha proprio dell'incredibile. Ieri Livia Turco del PD, ex ministro della salute e anche ex ministro della solidarietà sociale, dice che il senegalese che ha dato fuoco all'autobus va compreso. Sono fatti che creano angoscia e allarme che vanno assolutamente denunciati ma che vanno compresi nel senso di comprenderne la ragione. Ha quasi ucciso 51 bambini e Livia Turco dice che il senegalese va compreso. Compresi nel senso di comprenderne la ragione. Allora Livia Turco, in queste situazioni ci sono soltanto due cose che vanno fatte. Una, revocare la cittadinanza italiana a questo senegalese che è un criminale. E poi dare la cittadinanza italiana invece a quei due ragazzini che hanno consentito ai carabinieri di salvare tutti. Perché Livia Turco, sono questi i figli d'Italia che vanno riconosciuti. La tua è la solita carità pelosa della sinistra. Basta, basta. 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 Grazie.